le linee verticali sono state assemblate qui e quindi hanno ottimizzato tutti gli spazi disponibili. Vedete qua tra le due forme per il filato. Il Fernet cosa accade? Ha bisogno di un anno di maturazione. Il brand è vecchia, il Fernet matura, è diverso, prendono un corpo di 27 estratte delle 27 spezie. Qua abbiamo una fabbricazione del 29 maggio, travasato qua il 13 giugno, quindi vuol dire 14-15 giorni di lavoro. Qua contiene 13 mila litri, il 8-19, quello che poi vediamo sulla capsula, la tracciabilità sulla bottiglia. Se vediamo questo ferne qui del 13 giugno, c'è l'alba di un mio mercato, una roba strana, e quindi ha bisogno di un anno di maturazione. Un discorso di prima, un parecchio, questa qua. La cisterna è un'alba di un ceretto, non era anche.